Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Ciao, sono Lorenzo e sono uno studente al terzo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi dell'Insubria. Perché ho scelto l'Insubria? La prima cosa che volevo trovare alla fine dei miei cinque anni di liceo era un'università che godesse di una certa fama, ma soprattutto che fosse facilmente raggiungibile da casa mia. Infatti, sono riuscito a passare il test ed essere ammesso a Varese, nella mia città. Posso dirti, tornassi indietro di tre anni, che non avrei potuto fare scelta migliore. Mi sono trovato benissimo con i professori, facilmente reperibili in caso di spiegazioni, col materiale su cui studiare e soprattutto con le aule studio, aperte fino a sera, qualora decidesse di studiare in università invece che a casa. Inoltre, mi è stata offerta la possibilità, da quest'anno, quindi dal terzo, di collaborare come internista presso il Laboratorio di Morfologia Umana, affinando le mie conoscenze in anatomia e in istologia, ma soprattutto collaborare in una sorta di tutoraggio con gli studenti del primo e del secondo anno, aiutandoli a passare i loro esami in anatomia e in istologia, due esami importanti dei primi due anni. Insomma, spero che l'Insubria sia in grado di darti tutto quello che ha dato a me, cioè tantissimo, ovunque ti porti la tua scelta.